l'operazione mi senti vogliamo invitare qualcuno stiamo facendo una prova invita i tuoi amici cerchiamo lì ormai ci ha preso il gusto sappiatelo fine invitiamo un po quindi eccola qua invita a claudia stiamo facendo una prova perché tra linda perché tra le tante sorprese che ci sono in ballo dalle fiabe alla nuova terra il 22 23 dicembre a seminari eccetera c'è un progetto stiamo cercando di portare avanti un'amica che mi sta chiamando al telefono sì ecco devi entrare dentro l'invito e dire che accetti di stare in trasmissione aspetta perché penso che ci siano due tipi di invito uno che l'invita a guardare ciao linda scusa stavo saltando linda ma ormai è diventata famosa questa richiesta di partecipazione aggiungi spettatori per farli partecipare alla tua trasmissione e ti è arrivato l'invito madonna mi sento al telefono che ride ecco mi è arrivata una richiesta adesso approva vediamo subito aggiungi vediamo se arrivi ieri sera ci abbiamo provato valeria ferini è stato un disastro accetta accetta allora aspetta che parliamo parliamo qua su facebook parliamo aspetta che prima non vendiamo la pelle dell'orso che tra l'altro da bravo da bravo vegetariano e secondo me lo dovevi fare già prima probabilmente però prova ecco ti ci sei ma ti vedi sì io mi vedo io mi vedo e aspetta perché adesso ti sento è paradossale l'effetto perché ti vedo aspetta io capirei vabbè no facciamo così qua chiudiamo perché abbiamo verificato che funziona ci siamo no ma diciamo che abbiamo un progetto in ballo ah ok allora work in progress work in progress sì diciamo solo che è una cosa molto bella molto interessante è un pazzo meno male che non volevi fare i video sei fotogenica io no insomma il problema è che qua tenderò a perdermi ma guarda tu devi sapere che è divertentissimo perché io mi arriva su facebook una frazione secondo dopo la tua voce io prima ti sento al telefono fisso dopo di che mi arriva la tua voce e dici la stessa cosa sul web no è bellissimo eccezionale il potere delle delle telecomunicazioni va bene dai quindi comunque lasciamo lasciamo quindi una specie di curiosità alle persone di suspense suspense ok va bene ok ci siamo qua possiamo attaccare ecco io passerò alla storia col telefono fisso sappiate che al telefono fisso mi chiamano ho il call center o mia madre quindi io non ho dubbi stasera però anche Miriam dai ce l'ho anche io va ti faccio compagnia così pazzi siamo in due va bene dai allora chiudiamo qua va benissimo ciao 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 Grazie.